Un'altra pubblicità è possibile, lo dimostrano i lavori degli studenti delle 11 scuole medie e superiori della Toscana che hanno partecipato al concorso lanciato dal Comitato, se non ora quando, di Firenze e dalla Commissione regionale Pari Opportunità per promuovere un nuovo modello di pubblicità che non faccia ricorso ai più abusati stereotipi di genere. 125 gli elaborati presentati, 6 quelli premiati, tutti molto apprezzati dalla Commissione giudicatrice. È possibile pubblicizzare oggetti senza bisogno necessariamente di proporre donne nude, seminude o comunque in funzione di complemento e uomini forti, imbattibili. Il mondo non è così. Gli studenti dovevano promuovere scarpe, occhiali o giocattoli. Per le scuole medie e inferiori premiati Elisa Frantini, Marianna Martino e Penelope Laverghetta della scuola media di Impruneta, Curzio da Bagnolo che hanno pubblicizzato una marca di anfibi. Guido Landi della scuola media Giovanni della casa di Borgo San Lorenzo ha proposto un orzacchiotto, giocattolo unisex per eccellenza. I ragazzi del liceo artistico Virgilio di Empoli hanno vinto in tutte e tre le categorie. Federica Baldinotti per il suo manifesto Scarpe uniche come ogni donna, Giacomo Bagnoli per quello degli occhiali dentro Spectables e Sofia Lenzini con la sua bambina che gioca indistintamente con giocattoli da maschi e da femmine. Segnalazione speciale per Marco Domina, il suo lavoro la coppia per tutte le coppie. Gli elaborati saranno esposti fino al 9 giugno a Palazzo Medici Riccardi a Firenze.